Il Juventus di Antonio Conte sfiderà la Benfica di Jorges Jesus. Nelle semifinali di Europa League l'andata si giocherà in Portogallo il 24 aprile mentre ritorna allo Stadium fissato per il primo maggio. I bianconeri se la dovranno vedere quindi contro un avversario ostrico i portoghesi sono infatti retrocessi così come la Juventus. Dalla Champions League finendo nel girone alle spalle del Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic e a pari punti con l'Olimpiacos con gli sconti diretti però in favore dei greci. Dall'in poi i lusitani retrocessi appunto in Europa League hanno facilmente superato prima il Pauk Salonico nei sedicesimi poi giustiziato il Tottenham negli ottavi e infine battuto gli olandesi della Zeta Alkmaar nei quarti di finale. Per ritrovare precedenti tra le due squadre dobbiamo risalire alla semifinale di Coppa dei Campioni dal 1967-1968 dove passò il Benfica 2-0 all'andata poi 1-0 al Comunale il ritorno oppure più recentemente i quarti di Coppa UEFA del 92-93 dove invece passò proprio la Juventus 2-1 in Porto Gallo per poi ribaltare tutto nel ritorno a Torino con un secco 3-0. L'altra semifinale sarà tutta tinte spagnole Siviglia e Valencia si affronteranno infatti in un caldissimo derby di Spagna l'andata si giocherà in Andalusia mentre ritorna una settimana dopo a Valencia la curiosità di questi sorteggi sarebbe laddove la squadra di Antonio Conte dovesse superare il Benfica e i bianconeri infatti sarebbero costretti a giocare con la maglia gialla da trasferta per via proprio dei sorteggi che hanno stabilito che la Juventus in caso di finale giocasse come squadra da trasferta chi passerà tra Siviglia e Valencia sarà invece la squadra di casa la finale è fissata e andata 14 maggio allo Juventus Stadium di Torino